Nasce un nuovo gruppo politico all'interno del Consiglio Comunale di Lentini. Si tratta di Rete Civica, di cui ne fanno parte i consiglieri comunali Cirino Greco, Corinne Valenti, Filadelfo Tocco e Gianmarco Di Grande. L'obiettivo della nuova formazione politica potrebbe essere quello di acquisire un assessorato dopo le dimissioni, che avrebbe rassegnato l'assessore Cardillo. Il sindacolo Faro addirittura potrebbe nominare anche il sesto assessore, così come è avvenuto in tanti altri comuni. La nascita di Rete Civica, a sua volta, fa uscire dalla scena politica lentinese la lista civica lentini-operosa in cui sono stati eletti alle amministrative del 2021 i consiglieri comunali Cirino Greco e Fremme Sanzaro, che nei giorni scorsi però ha lasciato il gruppo per imboccare la strada dell'autonomia, e Corinne Valenti. Una mossa, quella di Rete Civica, che annullerebbe anche gli alleati di articolo 1 che alle amministrative del 2021 hanno sostenuto il sindacolo Faro, pur non avendo conquistato nemmeno un consigliere comunale. La situazione politico-amministrativa al Comune di Lentini, quindi, come si può intuire, è in continuo divenire, per cui potrebbero emergere anche nuove ed importanti novità. L'amministrazione, affermano intanto i consiglieri di Rete Civica, sta predisponendo una rigorosa manovra finanziaria e tributaria per scongiurare l'eventualità di un nuovo dissesto finanziario, che affonda purtroppo le sue radici sui ritardi accumulati negli anni precedenti. I problemi di Lentini, sostengono ancora i consiglieri di Rete Civica, sono tanti sia di natura strutturale sia di natura congiunturale. Derivano tutti però dalla mancanza di solidità economica di un ente che dovrebbe avere risorse umane e finanziarie in numeri sufficienti a fronteggiare le esigenze di una comunità di circa 23.000 abitanti. Per queste ragioni, concludono i rappresentanti di Rete Civica, rivolgiamo un appello alle energie positive presenti in Consiglio Comunale, che in questi mesi non hanno mancato di mostrare senso di responsabilità e amore per la comunità e di antepore in modo definitivo le esigenze della città a quelle di un'appartenenza di schieramento, che a nostro modo di vedere è ormai superata dall'esito delle elezioni dello scorso anno.